Buonasera Ministro. Buonasera a lei. Io ho avuto questa enorme fortuna che appena mi sono insediato hanno trovato queste statue tusche. Bellissime, bellissime. Evidentemente di destra. No, perché? Perché hanno dormito per 23 anni e si sono ridestate non appena hanno saputo della Meloni. Ma no, ma no, ma no, ma no. Speriamo che anche al sud, tipo, non so, a Riace, trovino qualcosa di simile, magari più alte. Ma ci sono già i bronzi di Riace, li hanno già trovati. Sì, 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 guardi, anzi sì. Allora mi spingo a dire che mi piacerebbe si trovasse nei besti della mia Napoli, un'intera città perfettamente conservata dopo un'eruzione vulcanica, con la gente ancora così. Sì, sì, ma infatti, infatti, infatti. Ecco, quello sarebbe Bingo. Sì, ma l'hanno trovata. Hanno trovato il Bingo? No, hanno trovato la città, Pompei, dai. E allora, bene, ma allora perché la Rai non ha fatto una miniserie su Pompei? Sì, ma no, ma... Ma non tutto, gli ultimi giorni. L'hanno fatta, guardi, si chiamava proprio gli ultimi giorni di Pompei, cioè è possibile che non lo sappia. L'hanno fatta? Sì, l'hanno fatta, la Rai, l'ha fatta. Si vede che Pompei era di sinistra. Ma no, non era di sinistra. Basta con l'egemonia culturale gramsciana, 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 gramsciana. Dobbiamo aggiungere una logica plurale perché dunque non pensare ad un commissario siciliano, per esempio, non so, che vive in una terrazza e ama cucinare, magari tratto da libri di un grosso fumatore, non so, il personaggio lo penso che si chiama Monteromina. Allora, c'è già, si chiama Montalbano. Hanno preferito il marito, perché però la Rai non valorizza la musica italiana, per esempio. Per esempio, con una gara, Canora, di canzoni inedite, in una locannità balneare del nord, Ligure, che so, Festival d'Imperia. Sì, va bene, Festival di Sanremo, c'è già, c'è già, c'è già. C'è già? Eh sì, ma non può non saperlo. Ma ora, con me al ministero, lo daranno su Rai 1. No, ma lo danno già su Rai 1, fanno cinque serate. Ma perché Rai 3, che in mano alla sinistra, non fa una fiction ambientata a Napoli, in onda tutti i giorni, con un titolo dentro il sole. C'è, c'è, guardi, anche quello, un posto al sole. C'è? C'è, c'è. Per esempio, pensare a un programma che si chiama La Ghigliottina. L'eredità, con La Ghigliottina, c'è, c'è, c'è. L'eredità? Sì, sì, c'è, c'è. L'ha detto lei? Sì, no, è La Ghigliottina, è il gioco finale. Ma un qualcuno che, non so, un programma dove qualcuno, per esempio, ti dice se domani piove. Il meteo, c'è, 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 c'è. Ma un programma che spiega la scienza, che si tramandano di padre in figlio, tipo il bosone. Sì, c'è un giangelo, sì, si chiama Quark. Quark. Sono bravi quelli di sinistra. Sono bravi, ha già fatto tutto, diciamo. Allora, non so, mi viene da dire perché un film prodotto dalla Rai Cinema potrebbe essere, a questo punto, su un ministro della cultura di destra, che viene dalla Rai e che non sa niente dalla Rai. Ecco, guardi, quello non c'è. Esatto, sì, ma vedrà che lo fanno. E' un ministro di sì. Gostesco, tipo Pompei. E certo. Con la gente che quando mi sente parlare fa così. Come fa. Va bene.